pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa dodicesima domenica del tempo ordinario ci permette di ritornare alla lettura cursiva del vangelo secondo matteo e incontriamo subito un tema caldo cioè il non aver paura delle persecuzioni delle incomprensioni e del rispetto umano entriamoci allora innanzitutto ci troviamo all'interno del decimo capitolo del vangelo secondo matteo il cosiddetto discorso missionario gesù sta dando cioè istruzioni ai discepoli dunque cristiani sul modo di portare avanti la missione di evangelizzazione e in modo molto concreto e realistico parla anche delle persecuzioni che si incontreranno nel corso del cammino quindi esorta a non aver paura anzitutto diamo uno sguardo veloce al tema della paura come sappiamo la paura è una delle emozioni fondamentali che di per sé serve a mettere in guardia e a preservare la vita da un pericolo o a sfornare energie nascoste per affrontare situazioni limite il problema è quando la paura fa da padrona cioè quando non abbiamo imparato a gestirla in tal caso tante volte la paura ci paralizza o meglio ancora ci fa correre fuori strada quante volte per paura si evitano quelle situazioni che si da una parte spaventano ma dall'altra sarebbero proprio la cosa giusta da fare e persino il demonio fa molta leva sulle nostre paure per ostacolarci nel compiere la volontà di dio vediamo ora cosa ci dice gesù nel vangelo di oggi anzitutto gesù ci dice non abbiate paura degli uomini poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto tocca subito vedete il vivo e ci dice di non aver paura degli uomini non aver paura degli altri non aver paura di ciò che gli altri ci possono fare e penso che qui potremmo prendere a livello esistenziale un primo piccolo punto cioè prendere contatto con le nostre paure dargli un nome e nel dargli un nome anche valutare la reale portata di quella paura per trovare poi forza di affrontarla se una paura agisce nel buio e non ne prendo contatto diciamo che continuerà a dominarmi come se io avessi un ladro in casa e lo lascio agire al buio il fatto di prenderne contatto dare un nome a quella paura significa già in un certo senso ridurla quindi valutarla perché io questa paura ma è così difficile è così grave è così grosso il problema quindi provare magari a pensare come la si vorrebbe affrontare diversamente e poi pian pianino provare a fare qualche passo concreto per affrontarla quindi gesù ci esorta non abbiate paura degli uomini e ci dice perché non aver paura perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto cioè qui il signore ci sta dicendo che alla fin fine tutto viene a galla al positivo verrà fuori se una persona ha amato il bene che ha fatto se una persona era nel giusto ed è stata per esempio perseguitata ingiustamente quindi ha dovuto patire e soffrire magari chiacchiere offese tradimenti quante volte i profeti e santi lo hanno vissuto prima li hanno seppelliti poi li hanno elogiati quindi ci dice non abbiate paura tanto tutto verrà a galla nel bene ma potremmo dire anche nel male cioè tante volte le persone che fanno leva sulla violenza intimano il silenzio cercando di incutere timore in modo tale che tutto rimanga nascosto ma il signore ci dice non abbiate paura tanto potremmo dire prima o poi i nodi vengono al pettine le cose vengono fuori se una persona è doppia prima o poi emergerà se una persona non ama prima o poi si capirà se una persona vive nell'ambigua e nell'ingiustizia prima o poi si smaschererà allora ci dice non abbiate paura degli uomini e continua quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze cosa sta dicendo qui il signore cos'è che noi ascoltiamo nelle tenebre o all'orecchio potremmo dire che tutto ciò che è frutto della nostra relazione con lui noi infatti viviamo la nostra relazione col signore innanzitutto nell'intimità del cuore nel segreto della nostra anima noi ascoltiamo la sua parola che produce frutto in noi quindi qui il signore ci sta dicendo ciò che è frutto della tua esperienza di me ciò che tu comprendi nella tua interiorità quel rapporto con me che tu coltivi in te bene non tenerlo per te quell'amore che esperimenti quella luce di salvezza che cogli quelle parole di verità che fai tu e che illuminano la tua storia annunciale trasmettile portale agli altri dunque anziché pensare a ciò che gli altri ci possono fare pensare a ciò che noi possiamo donare allora potremmo dire vedete che dopo il prendere contatto con le proprie paure qui abbiamo un primo grande rimedio che non pensare a se stessi all'autoconservazione di noi stessi ma pensare a donarci e a donare bellezza agli altri quindi il dono di sé tante paure si risolvono tanto più smettiamo di pensare a noi stessi pensiamo al bene di chi abbiamo davanti a noi questo vale a tutti i livelli pensate anche a livello di giustizia sociale se io mi ritrovo in situazioni dove persone commettono ingiustizie e mi minacciano intimandomi il silenzio se io mi farò vincere dalla paura e tacerò permetterò il dilagare dell'ingiustizia ma se io penserò al vero bene alla salvezza di chi ho davanti e al bene di tante altre persone in nome di dio per amore suo non potrò tacere e continua gesù e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima abbiate piuttosto paura di colui che ha potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo ecco qui il signore ci esorta a non ingigantire potremmo dire ciò che gli uomini ci possono fare altrimenti ne rimaniamo paralizzati ma tener lo sguardo puntato sul padre qui richiama al timore di dio ad averne il giusto rispetto e ricordare una cosa che il criterio di bontà di un'azione non è ciò che mi evita una sofferenza qua ma è l'eternità e la verità quindi cercare il vero bene non ciò che mi evita i problemi e poi ancora gesù dice due passeri non si vendono forse per un soldo eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non abbiate dunque paura voi valete più i molti passeri possiamo dire che qui gesù passa dal timore all'amore dal rispetto dal tenere il nostro sguardo puntato sul padre all'immergerci nell'amore del padre nel sapere che la nostra vita è teneramente custodita nelle sue mani che ha cura persin del più piccolo passerotto pensate quante migliaia o milioni di passerotti ci sono bene neppure uno cade senza che il padre lo voglia e voi dice gesù valete più di molti passeri a questo punto possiamo dire che gesù ci dà un secondo rimedio per la paura che forse è il più grande che è la fiducia sì miei cari vedete un grande problema della paura è quella di sentirci soli di non avere in noi le forze per affrontare quella situazione in fondo si pensa che il grande rimedio alla paura sia il coraggio in realtà il vero grande rimedio è la fiducia qualcuno diceva la paura bussò la fede aprì e non trovò nessuno quindi il poggiare la nostra interiorità sul padre pregare mettere le situazioni davanti a dio che è più grande di ogni problema e di ogni paura affidarci a lui nelle nostre scelte sapendo che in lui abbiamo forza per scegliere il bene per fare la sua volontà infine gesù conclude perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini anche io lo riconoscerò davanti al padre mio che nei cieli chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini anche io lo rinnegherò davanti al padre mio che nei cieli è una frase forte che sicuramente ci viene a scuotere un po tutti quanti però guardate noi la possiamo leggere soltanto come dovere o addirittura come moralismo cioè io devo riconoscere gesù perché sono cristiano oppure allargare un po la riflessione cioè è vero questa frase ci spinge al riconoscerlo davanti agli uomini però soprattutto ci fa riflettere ma se io sono cristiano e non ho il coraggio di testimoniare gesù la domanda sorge spontanea perché se io conosco gesù che nel linguaggio biblico indica un aver relazione con lui un rapporto di comunione con lui va da sé che se io lo conosco lo riconosco davanti agli uomini se io invece non lo riconosco davanti agli uomini fino a che punto lo sto davvero conoscendo fino a che punto sto vivendo una relazione vera profonda con lui le cose sono due o davvero gesù non l'ho incontrato e mi son fermato ad una fede di tradizione ma senza un vero rapporto con lui o comunque non sto andando a fondo di questo rapporto ci sta che all'inizio io abbia qualche difficoltà in più ma se davvero poi vado a fondo in questa relazione se davvero la coltivo in modo autentico in modo vero va da sé che la bocca parlerà dalla pienezza del cuore non potrò tacere la bellezza dell'avere cristo nella mia vita del camminare con lui del seguire lui dio fattosi uomo che viene a darmi la grazia e mi insegna a vivere ad amare da dio chiediamo allora miei cari che davvero la relazione profonda con gesù possa liberarci da ogni paura del rispetto umano sapendo che ciò che conta essere graditi a dio non agli uomini ricordarci che siamo segno e strumento anche per la conversione degli altri che hanno bisogno della nostra testimonianza e delle nostre parole per arrivare a guardare a lui per scorgere un raggio di lui e chiediamogli soprattutto la gioia di testimoniare la bellezza del vangelo senza farci imbavagliare la bocca da inutili paure e timori del giudizio degli altri ciò che conta è il giudizio di dio ciò che conta è essere graditi a dio ciò che conta è testimoniare l'amore di dio amando lui e amandoci in lui che il buon dio vi benedica a tutti